da quanto tempo di secco 21 e 18 adesso sono 21 petti guardiamo 21 e 43 ecco qua c'è l'orologio succede sempre tutte le sante sere prima al giro prima me sono incastrato all'altro lato chiamando i vigili ispettore al giro dopo come sono incastrato quest'altro lato c'è tanto di cartello la gente lo sa però continua a parcheggiare le macchine in questo modo qui siamo tra via dei 100 celle via di platani e via di frassa e le tabelle e la gente purtroppo poi aspetta un'ora un'ora e mezza due ore l'autobus che non passa perché adesso stiamo qui aspettiamo ispettori dell'atac i vigili quando chiamano i vigili ci viene risposto che hanno un solo caratterezza per circoscrizione che in questo momento è sempre impegnato quando arrivano i vigili perché sono stati impegnati in altro luogo perciò stiamo sempre la